Marotta deve chiamare subito Perisic e dirgli scusami abbiamo temporeggiato siamo stati degli stronzi stai con noi un altro anno, rinnovate il contratto a Ivan Perisic è il migliore esterno sinistro del campionato italiano non mi sono rincoglionito nonostante la stagione sia finita da una settimana ho dovuto subire tutti i festeggiamenti del Milan in piazza, Ibrahimovic è preso in giro però il titolo c'entra con questo video e l'introduzione che vi ho messo e cioè quella in cui io in tutta la prima parte dell'anno supplicavo Marotta di rinnovare Perisic e l'ho fatto per tanti 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 video, era diventato addirittura un trend e mi scrivate sotto ogni video rinnovare il contratto Ivan Perisic adesso vi vengo a dire l'Inter non rimpiangerà Ivan Perisic e ve lo dico non perché l'Inter ha già comprato Robin Gosens il motivo non è questo quindi la notizia principale è che l'Inter perderà Ivan Perisic al 99,9% probabilmente al 100% però l'Inter si sta già muovendo dove rispetto a un anno fa in cui a giugno parlavamo soltanto delle possibili cessioni Inter quest'anno ci sono tanti nomi in entrata di cui parleremo anche in questo video e soprattutto sembra essere più sensato il progetto a partire dalla dichiarazione di Zhang che dice rispetto all'anno scorso in cui diceva dovremmo cercare di essere comunque competitivi e arrivare nei primi 4 dice dobbiamo essere più competitivi rispetto a quest'anno sono positivo? Molto! per vari motivi voi scrivete qua sotto cosa ne pensate ma prima come sempre guardate il video buona visione Ivan Perisic sembra aver rifiutato l'offerta rialzo proposta all'Inter che gli aveva offerto appunto 4 milioni e mezzo per tutto l'anno un ultimo rialzo che aveva portato la cifra a 5 milioni più bonus per arrivare a 6 milioni Perisic ha scelto il Tottenham ha scelto Antonio Conte ha scelto di provare un'altra esperienza alla fine della sua carriera e cioè di andare a giocare in Premier League e questo ci dice fondamentalmente due cose la prima è quella che ha detto già marotta settimana scorsa e cioè il campionato italiano è un campionato di transizione non per Ivan Perisic che ormai è fine carriera però l'ambizione di tutti è andare a giocare in Premier League è l'ambizione di tutti i calciatori quindi se non vai a giocare in Premier League devi andare a giocare in grandissimi team tipo Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco altrimenti è difficile trovare le motivazioni per stare in Italia questa è una realtà, dobbiamo accettarla e dobbiamo accettare il fatto che Ivan Perisic va in Premier League e secondo me non ci va per il milione in più ci va perché pensa di aver dato tutto all'Inter e soprattutto pensa di non essere stato trattato come gli altri big e questo secondo me è una motivazione reale perché l'Inter va da Ivan Perisic dicendo insomma Ivan hai 33 anni, possiamo offrirti soltanto 4 milioni per due anni però parallelamente aveva rinnovato Barella a 6 milioni Lautaro a 6 milioni aveva rinnovato Bastoni alzando il mio stipendio e lui dice ho capito ma io sono importante quanto loro e la scusa dell'Inter è stata sì ma tu hai 33 anni in squadra dell'Inter però ci sono persone come Sanchez e Vidal che guadagnano più di 6 milioni di euro netti all'anno e quindi giustamente lui dice io non valgo meno di loro, vado via è un giocatore orgoglioso con un carattere anche particolare e io vi dico già adesso che secondo me l'Inter non si pentirà di aver dato via Ivan Perisic vi spiego perché e il motivo non è che l'Inter ha Robin Gosens che comunque è un grande giocatore e un ottimo giocatore che può fare il titolare nell'Inter il motivo è che se voi fate un ragionamento degli ultimi 3 anni di Inter da quando l'Inter gioca col 3-5-2 è difficile ricordare qualcuno che abbia fallito nel ruolo di esterno sia a destra che a sinistra fate questo ragionamento pensate a tutti i giocatori che sono passati vi faccio alcuni nomi anche giocatori che sono arrivati e sono spariti dopo poco tipo Moses ma nonostante ciò anche Moses era riuscito a far bene mi ricordo un fantastico assist nel derby ma mi ricordo il fatto che comunque sia riusciva a essere pericoloso Ashley Young un giocatore a fine carriera che comunque è riuscito a dire la sua Kandreva nell'ultimo anno che ha fatto all'Inter lì da esterno centrocampo aveva fatto comunque un buon campionato ovviamente Perisic Darmian che l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato e anche quest'anno ha fatto un ottimo campionato e certamente Hakimi che è stato poi venduto per 70 milioni perché tutti questi giocatori stanno facendo benissimo nel ruolo di esterno dell'Inter quando per anni non siamo riusciti mai a trovare esterni? perché il ruolo del 3-5-2 che da tutti i giornalisti è scritto come un ruolo difficile perché devi coprire tutta la fascia devi correre, devi saper attaccare, devi saper difendere è vero devi saper attaccare, devi saper difendere ma la reale motivazione per cui poi i giocatori che giocano lì giocano bene è che tu giochi in un limbo per cui non sei mai il diretto responsabile difensivamente ma quando torni in difesa vieni sempre allogiato perché sei il quinto che torna e quindi quando fai recuperi ah grandissimo è tornato anche Perdic è tornato anche Darmian a recuperare indietro e non sei neanche là la destra di attacco che invece ha responsabilità di gol, di assist deve essere presente deve fare la differenza ma sei semplicemente un esterno quindi sono due punte e generalmente la responsabilità offensiva è sempre data alle punte per questo motivo questo ruolo qua di limbo di esterno, di centrocampo riesce a far giocare bene quasi tutti i giocatori che poi vanno a interpretarlo magari vi sembra una follia quella che vi sto dicendo ma Inzaghi ha esaltato questi due ruoli giocando un calcio molto offensivo perché poi i giocatori in fascia quando hanno campo davanti riescono a puntare gli avversari in velocità mentre quando giochi in fascia e sei più avanti hai gli avversari a un metro e quindi puntare saltare un giocatore da fermo è molto più difficile rispetto a farlo in corsa e quindi io non sono spaventato al fatto che Van Persic vada via penso che Gosens possa fare benissimo avrei voluto restasse sì a ottobre, novembre, dicembre come avete sentito all'inizio del video e alle ispezioni che vi ho messo ma se avete notato dopo gennaio non ho quasi più parlato del rinnovo di Persic ho detto che lui stava giocando benissimo che era un giocatore fantastico ma se vai a spendere 26 milioni di euro per un giocatore che andrà a sostituire Persic è inutile rinnovarne un altro a 6 milioni per questo motivo sono abbastanza tranquillo e penso che l'Inter non rimpiangerà Persic e che Gosens farà comunque una grande, grande stagione parlando del mercato dell'Inter ho sentito persone dirvi che dobbiamo vendere tutti persone dirvi che compreremo tantissimi giocatori ovviamente la verità non è né una né l'altra l'Inter dovrà far cassa e venderà qualcuno? sicuramente sì l'Inter farà cassa e venderà qualcuno quindi non è che autofinanzierà questo mercato ma aiuterà le casse del club vendendo qualcuno e questo qualcuno non è detto che debba essere un big o perlomeno se sarà un big sarà un sacrificio tipo quello di Lukaku cioè l'Inter dice volete Lukaku? sono 110 milioni cioè non è che arriva uno ci da 50 milioni ecco Lautaro questo non credo che succederà non mi aspetto che succederà e da quello che mi dicono non succederà è importante però identificare chi eventualmente sarà il sacrificato perché io ho sentito tanto a parlare di bastoni ma vendere bastoni 70 milioni e il sostituto non è Bremer cioè attenzione perché Bremer gioca centrale nella difesa 3 quindi Bremer viene a fare il sostituto di De Vrij non viene a fare il sostituto di bastoni credo che sia importante capire questa cosa l'altra informazione importante è eventualmente capire cosa possa succedere se l'Inter dovesse vendere Lautaro che è quello che è sicuramente più appetibile ci sono tante squadre in cerca di un attaccante centrale e se l'Inter dovesse vendere Lautaro deve avere chiaro qual è il piano e cioè ok posso sostituire Lautaro con Di Bala come ruolo quindi la seconda punta la fa Di Bala e Lautaro viene sostituito ma l'Inter poi deve andare a prendere una grande prima punta perché Di Bala non ha nei piedi i gol di Lautaro Martinez e l'Inter l'anno prossimo non può fare affidamento su Di Bala per cercare di fare 20-25 gol in campionato perché non li ha questi numeri non li ha mai avuti o li ha avuti pochissime volte in carriera e soprattutto sappiamo che è un giocatore anche fragile quindi subisce tanti infortuni e se l'Inter dovesse fare questa scelta deve essere coperta al 100% in questo caso si è parlato di Romeo e Lukaku ve lo dico subito io sono completamente contrario al ritorno di Romeo e Lukaku all'Inter per due motivazioni che non c'entrano niente con è andato via non lo rivoglio più vedere in squadra non si merita i tifosi dell'Inter perché io tratto tutti i giocatori come dei professionisti e non come dei tifosi quindi va via torna a me non frega assolutamente nulla cioè io valuto se il professionista c'è utile o meno Romeo e Lukaku ci sarebbe utile come prima punta sì è utile il progetto Inter no perché Romeo e Lukaku arriverebbe in prestito e quindi non fa nulla per aiutare il progetto Inter nel senso che l'Inter ha bisogno di trovare la prima punta del futuro fra un anno ci ritroviamo qua a riparare del fatto che l'Inter sarà senza prima punta l'Inter deve capire adesso quale sarà la prima punta del futuro adesso quindi o è stato individuato un ragazzo di 19-20 anni che ancora non conosciamo che io non lo so che sarà pronto probabilmente fra 1-2 anni e l'Inter dice intanto riprendiamoci Lukaku in prestito allora vi dico sì se l'alternativa invece è prendiamo Lukaku in prestito perché gli altri non ci convincono non risolvi nulla cioè l'Inter deve guardare il futuro abbiamo visto dall'altra parte del naviglio cosa ha fatto una squadra con tutti i ragazzigioni senza comprare neanche un campione non voglio dire che quella sia l'unica stravincente e non lo è però bisogna anche prendere spunto dalle cose positive che hanno fatto per batterci quindi qualche giovane va inserito in questa squadra soprattutto se il problema è economico finché hai i soldi per comprare non ti pone il problema di dobbiamo valorizzare qualcuno ma se non hai soldi per comprare e ogni anno devi vendere bisogna valorizzare dei ragazzi quindi bisogna puntare a dei ragazzi giovani ringiovaniglia rosa e poi completare quello che è l'organico che comunque sia rimane secondo me il più forte organico della Serie A e lo dico dopo aver appena perso il campionato con molta tranquillità e molta trasparenza questa è la mia opinione scrivetemi qua sotto cosa ne pensate come sempre se siete tifosi dell'Inter e vi piace il calcio iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao